Esiste un nemico terribile, molto difficile da sconfiggere e che si chiama Inizio dal lunedì In questo video ti spiego perché il Kramagati può essere utile per sconfiggere questo nemico Tutti quanti a livello intellettuale siamo in grado di capire che se esiste un problema e abbiamo capito la natura del problema e se abbiamo una soluzione e sappiamo come porla in atto la via più semplice è quella di porre in atto la soluzione da subito, il prima possibile Eppure che cosa succede? Procrastiniamo Siamo dei procrastinatori incredibili e ti prego di notare che dire procrastinare non è per niente facile Tendiamo a procrastinare a lunedì quindi, a lunedì successivo e così via sino a spingerci un futuro in cui le macchine avranno conquistato la terra e i rettiliani saranno padroni del mondo Perché questo? Perché in verità il nostro cervello che pure molto evoluto Nel suo nucleo più primitivo conserva una parte che di fatto non va molto oltre il giorno successivo Se tu pensi dal punto di vista primitivo l'uomo non sapeva se sarebbe sopravvissuto Per cui navigava a vista L'idea di lavorare e risolvere i problemi con un'ottica orientata al futuro è qualcosa che è evoluto e va allenato In che modo il Krav Maga ti può essere utile in questo? Perché in verità l'allenamento nel Krav Maga, per come esso è costituito, crea un collegamento mentale nuovo Quando uno fa Krav Maga sa che, riconosciuta una determinata problematica alla natura di essa, deve agire immediatamente Perché? Perché più ti intendi, più aspetti, più devi essere veloce, forte e fortunato Per cui che cosa si crea? Si crea un collegamento mentale all'interno del quale la persona comincia a ragionare in termini di Trovo il problema, ne riconosco la natura, agisco immediatamente E crei un rinforzo, perché? Perché questo modo di agire ha successo Per cui se vuoi smettere di procrastinare nella tua vita, fai Krav Maga Ma soprattutto smetti di procrastinare e fai Krav Maga Per cui se vuoi smettere la tua vita, fai Krav Maga